Con questo svingolo l'8.0 è completato, devo dire che anche questo tratto di strada lungo 700 metri non ha tradito le attese dell'8.0, è stata un'opera un po' tribolata, tanti ricorsi, tanti problemi, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta. Con questo si completa il tratto dell'8.0, sono 700 metri di strada ma sono 700 metri importanti perché questa zona che vediamo qui alle mie spalle sarà una zona in espansione, basta pensare che sono iniziati i lavori di Globo e adesso inizieranno i lavori per l'insediamento di Gabrielli che sarà un insediamento importante, è una zona che nei prossimi anni crescerà molto e quindi è una zona di sviluppo. Voglio ringraziare anche i residenti che sono stati molto pazienti, è brava gente, è gente che comunque dovrà essere pagata dell'esproprio, lì si è aperto un contenzioso ma lo chiudiamo, intanto daremo un anticipo loro per quanto riguarda il quanto dovuto e poi non appena gli organi giudiziari decideranno qual è l'importo perché c'è stato un po' una diatriba, però anche su questo risolveremo. È un'opera ancora work in progress perché ci sono ancora alcune cosette da fare, c'è da realizzare un marciapiede, ci sono ancora alcune cose da fare, però intanto l'abbiamo voluto aprire, abbiamo voluto comunque inaugurarla, intanto ci si prende un po' confidenza come avviene per il traffico e nel frattempo completeremo l'opera.